Mister Claudio Gabetta, al termine di questa partita tra Parma ed Inter 2-2, un pareggio di prestigio, però un pareggio che forse sta più stretto al Parma che non all'Inter. È stata una bella partita, devo dire che sono dei test match formativi, quindi alla fine sono contento della prestazione dei ragazzi, avevamo di fronte ovviamente un'ottima squadra, però ci siamo affrontati a viso aperto, la cosa che mi è piaciuta molto è che abbiamo giocato per come ci alleniamo e abbiamo giocato la cosa bella tutti insieme, con tanti ragazzi anche dell'Under 16, però tutti con la stessa idea di calcio, quella è stata la cosa più importante secondo me, che scaturisce da queste partite, che si dà un senso se c'è un'idea, se si prova a mettere in pratica questa idea, a prescindere da tutto, quindi sono contento. Diversi Under 16, Simone Torri fino dall'inizio, osservato speciale in questa settimana Antonello Vona, che è Reduce d'Acco Verciano e è chiuso la sua settimana nel migliore di modi, facendo l'esordio in Under 17. Sì, sono dei ragazzi interessanti, ovviamente che stanno crescendo bene, grazie veramente agli allenamenti che fanno, al mister Stefano di Benedetto, quindi devo dire che stanno crescendo bene. Mi è piaciuto molto anche Cavalca, che è stato l'autore di due gol, anche lui in 2004, è un ragazzo molto intelligente, quindi siamo contenti di aver fatto giocare magari anche noi chi giocava un po' meno, abbiamo visto dei miglioramenti importanti da parte di Agostinelli, da parte veramente di tanti ragazzi, quindi sono di Monteverdi, del portiere, quindi sono contento per questo, perché quando si vede una crescita vuol dire che abbiamo lavorato in senso positivo, quindi sono molto contento, ripeto, di come si sono espressi, pur non essendo dello stesso gruppo, si sono espressi bene, sembravamo una squadra, quindi questo significa che il lavoro sta andando nella direzione giusta. Citiamo appunto tra i portieri anche Iseglie che è entrato nel corso del finale della partita, ha avuto anche lui una certa personalità, diciamo così per completare un po'. È un ragazzo che ha un'ottima personalità, molto deciso, quindi è entrato ed è entrato subito bene, si è fatto trovare pronto e credo che insomma anche questi siano dei momenti di crescita anche per loro, giocare contro una grande squadra come l'Inter di un anno in più credo che sia veramente molto formativo, quindi siamo, ripeto, soddisfatti delle opportunità che diamo ai nostri ragazzi attraverso questi test, quindi ringrazio la società che ci dà questa possibilità di confrontarci sempre ad alti livelli. Quello che magari ti sarà piaciuto di meno è la situazione sui gol presi che erano abbastanza simili tra loro, se vogliamo. Diciamo che è una squadra che se lasci giocare un po' in campo aperto è chiaro che come hanno fatto poi nella nostra metà campo possono trovare imbucate, possono trovare spazi, possono trovare delle possibilità, quindi magari dovevamo essere un po' più aggressivi in quella zona di campo, però posso solo dire che i ragazzi hanno fatto molto molto bene quando siamo andati alti, che siamo stati nella loro metà campo, quello è stato veramente molto molto positivo e poi c'è anche la bravura insomma degli avversari al di là di quello che potevamo fare meglio noi insomma. Perfetto, grazie e tanti auguri. Grazie Gabriele, tanti auguri anche a te.